In un grande magazzino, una volta avviso, spegnere un carino pieno sotto braccio a te, che impazzati, succelati, rinchiarati, impazzati, ancora mentre sento che te appoggia a me. Prepararsi alla patenza, cresci il scarpo, credo che sia svegliato in questo mondo, prima del sé. Siete e ma si trattoria, per un sabino, e sempre il giorno e a letto, che non è da più via. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Scusi lei, mi amo, no, non lo so, però ci sto, compterà tre semi, quanti è grande, ma non lo so, però ci sto, compterà tre semi, quanti è grande, ma non lo so, però ci sto, compterà tre semi, quanti è grande, ma non lo so, perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Scusi lei, mi amo, no, non lo so, però ci sto, compterà tre semi, quanti è grande, ma non lo so, però ci sto, compterà tre semi, quanti è grande, ma non lo so, però ci sto, compterà tre semi, quanti è grande, che sto, compterà tre semi, quanti è grande, quali è il nostro 모 aree? Grazie a tutti. Grazie a tutti.